Siamo nella sala consigliare del Comune di Cantiano, siamo con Alessandro Piccini, primo cittadino in carica dal maggio 2014. Semplicemente chiediamo cosa significa la turba per Cantiano. Beh, la turba è Cantiano, nel senso che non possiamo distinguerne e separare la comunità di Cantiano da questo che è un evento, che non è altro che la sua massima espressione dal punto di vista identitario e di orgoglio cantianese, appunto. Io dico sempre che la turba è nei cantianesi e i cantianesi fanno la turba, nel senso che ormai la quotidianità di Cantiano vive nelle parole di un copione, che è quello della turba, con le frasi, con i gesti, e la turba, insomma, è la massima espressione della coesione comunitaria che raggiunge il suo massimo livello nella messa in scena di un'intera comunità attorno a questa rappresentazione. In che modo l'amministrazione comunale lavora in sinergia con l'associazione culturale turba? Devo ammettere che ce ne fossero di associazioni come la turba che incarnano il modello che dovrebbe avere un'associazione all'interno di un paese, perché far parte della turba implicitamente significa essere un cittadino cantianese. L'amministrazione supporta l'attività di questa associazione in modo sia morale che operativo e nella fattispecie si occupa dell'allestimento di tutto quello che è la scenografia che è di supporto, insomma, attorno alla manifestazione stessa. Parlare di costi, ecco, diciamo, costi e ritorno. Non ho mai in qualche modo associato il discorso costi alla turba e ritengo opportuno non farlo, nel senso che non ci si può domandare se un evento come la turba sia economicamente sostenibile. Premesso che non lo è, non ci importa, nel senso che in un'economia complessiva di bilancio le risorse e le economie vanno cercate altrove. Non possiamo in qualche modo mettere in discussione un evento che è rappresentativo dell'identità della nostra comunità. Quindi la turba si farà sempre al di là, insomma, dei discorsi economici e della sostenibilità finanziaria dell'operazione. Sappiamo nel recente passato che il Sindaco ha ricoperto anche il ruolo di figurante. Ecco, ci racconta che cosa ha fatto e soprattutto le emozioni nel vivere da protagonista la turba. Sì, insomma, ho fatto, anch'io, insomma, come tutti, immagino, ambiscano, insomma, questo ruolo da piccoli abitanti di Cantiano, da bambini, insomma, si ambisce al ruolo turba. Io ho fatto il soldato a cavallo, un ruolo particolare, nel senso che al di là, insomma, della partecipazione c'è anche una fatica fisica, nel senso che in qualche modo si ha anche la responsabilità di gestire, insomma, in condizioni sceniche particolari il rapporto con un cavallo che è impressionante come nello scendere in capo nel cuore della manifestazione diventi un agnellino, nel senso che un cavallo come il mio, che era anche abbastanza euforico, nel momento in cui entrava in piazza assumeva degli atteggiamenti, insomma, molto innocui e docili, forse anche lui colpito, insomma, da questo aspetto, insomma, magico della turba.